ciao a tutti oggi nuovo video in compagnia di lei e lei lei perché vi faccio vedere questa spazzola qui io l'ho scoperto da un paio di mesi più o meno questa spazzolina e anche questa vi aiutano a migliorare la pelle delle vostre gambe sapete adesso sapete se voi io faccio cinque minuti con questa e cinque minuti con questa questa mi concentra più sulle cose sul sedere questo invece faccio tutta la gamba passate presente la gamba fate così tutta la gamba tutto il sedere cinque minuti detto non dovete fare ci mette ci ricordano solo dritta la passate cinque minuti poi gli altri cinque minuti passate questa io la passo o così una spazzola normale oppure anche così sul sedere mi è sicuro che se fate tutti i giorni io lo faccio probabilmente alla sera e prima metto un gel riposante un gel anticellulite la faccio solare e poi faccio il massaggio vi assicuro che migliora la pelle non la fa sparire ovviamente dovete aiutarvi con la dieta fisica una dieta bilanciata dieta non vuol dire dieta dimagrante dieta è un stile di vita alimentare fate il vostro piano alimentare seguito da un dietologo o un dietista principalmente se avete particolari problemi e poi fate attività fisica quella che vi piace di più quella che non vi stufa e poi ci aggiungete anche un bel massaggino con questa spazzolina che io l'ho pagata almeno di 6 euro quindi io ho provato di tutto per la cellulite ho provato letto stimolatore ho provato trattamenti in cabina dall'estetista ho provato gli indumenti quelli modellanti una infinità di creme ho provato anche creme di farmacia ho provato le scarpe che le fanno dimagrire ne ho provato di tutte però quello che mi dà più soddisfazione è l'attamento di cabina però l'attamento di cabina è molto molto costoso però questo mi dà soddisfazione questa spazzolina in bambù questa è bambù il legno non è cinghiale assolutamente no io amo i cinghiale non li toccare neanche con un dito poverini però vi consiglio di cercarvi questa spazzolina si può anche staccare però non riesco a staccare con questa aiutate le vostre gambe io lo faccio anche per un po' per la pancia per aiutare a sgonfiarla e sulle braccia sono questo per sfogliarle un pochino e niente questo era il breve video non è una cosa nuova perché già si sapeva però io l'ho testata da un paio di mesi che lo faccio tutte le sere anche se sono stanca e mi assicuro che mi dà un senso di leggerezza la pelle più compatta più sgonfia però fatemi sapere se è ridotto anche qualche bocchino quindi male non mi fa e niente ci vediamo al prossimo video un bacio a tutti lasciate un like un commento iscrivetevi al canale per supportarmi ovviamente ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao